Francesco, noi siamo pronte. Chiara de Fabarone, avvi da tornare a casa, alla potestate dello padre tuo. Vuoi stare a servizio da ste monache? Perché? Voglio vivere un po' apertate. Madonna Chiara, guaritami sta creatura. Avvi segnato la fronte e la figlia si risanò, facendo un miracolo. Noi sortiamo tutte quando serve, per portare tovaglie nelle chiese, per consolare le anime e i corpi degli infermi. Noi la clausura non la vogliamo fa'. Ma voi non siete frati, siete femmine. Avete pagura? Siamo perigliose? La femmina fa tentazione nello peccato, con lo periglio dello corpo e delle carni sue. Stateve qua, stateve longe dalle femmine. Ci credono le porte dello monasterio se proviamo a partire. No! Cari! Mi amore e marita, forzo. Signor Dio! Mi fate male! Lassate la sorella mia! Ma non la lasso, l'està qui! No! C'è da nastro della demonio. Come lo facessi? Dicono che sei santa, che facci lì miracola. Oh, per l'amore di te. A Roma si parla tanto di voi. Non volevo che mi chiamino santa, non volevo. Io volevo solo stare con la gente, Francesco. Poi forse un giorno ci rinconteremo. Poi forse un giorno ci rinconteremo. A Roma se superiore. A Roma si parla tantissimo. Poi forse un giorno di Audrey. Poi forse un giorno ci rinconteremo.